E' dall'Italia che noi lanciamo questo violento scioccante manifesto, vogliamo che sia chiamato futurismo. Musica Trova ricette mai viste prima, come profumi prigionieri, datteri al chiaro di luna, antipasto folgorante, prefezioni gustative e pollo d'acciaio. Queste ricette suonano strane? Forse la preparazione di il carne plastico risveglierà i tuoi sensi visivi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.